Ci siamo rinforzati sicuramente, la società ha fatto un buonissimo lavoro, però come ho detto bisogna meritarsi questo ruolo di ambire a qualche cosa. La Savino del Bene Scandicci non si nasconde, squadra ambiziosa quella allestita dalla società che sul gruppo già solido della scorsa stagione conclusa con un quarto posto in classifica, le semifinali playoff e con la vittoria della Challenge Cup, ha inserito sette nuove pedine. Alla corte di Massimo Barbolini per il terzo anno di fila sulla panchina toscana sono arrivate giocatrici di grande esperienza. Yvonne Beliene dal Bisonte, Yana Sherman, Ludovica Guidi da Casal Maggiore, Ellie Washington da Novara e Isabella Di Julio da Bergamo e in attesa di scoprire la cinese Ting Zhu Oro Olimpico con la propria nazionale a Rio nel 2016, fare i puntati in questi giorni in palestra sull'opposto Camilla Mingardi lo scorso anno con Busto Arsizio, seconda migliore marcatrice del campionato con 524 punti in 26 partite. Sono le prime settimane di preparazione quindi c'è tanta carica, tanta voglia. Ho iniziato questa stagione veramente con tantissimi buoni propositi e tanti obiettivi importanti. Non solo la lotta per lo scudetto che quest'anno perde una delle interpreti migliori, quella Paolo Egonu che ha deciso di lasciare l'Italia per giocare in Turchia. Scandicci guarda con interesse anche a Coppa Italia e Coppa CEF. Malcom e quest'anno mi sono posto l'idea di pensare in casa mia, di guardare bene, di cercare di far migliorare al meglio la mia squadra, le mie giocatrici. Questo fatto di Egonu fuori dall'Italia potrebbe forse equilibrare un pochino di più il campionato. Domenica 23 ottobre è sordo in campionato a Perugia, la volata a scudetto è già iniziata. Penso che la società abbia allestito una buonissima squadra con tantissime alternative e ci completiamo molto, quindi sicuramente noi proveremo a portarlo a casa.